Un vasto promontore anticiclonico si estende dal Nord Africa alle isole britanniche, richiamando verso il Mediterraneo e centro-orientali correnti relativamente fredde ed instabili in quota. In Toscana, mercoledì 24 maggio, sereno poco nuvoloso per velature, moderato sviluppo di nubi comuniformi nel pomeriggio sull'Appennino dove non si escludono isolati e brevi rovesci. Tra la tarda sera e la notte di giovedì nubi in aumento con locali rovesci su settori più orientali della regione, venti deboli o temporaneamente moderati occidentali, in particolare sui rilievi, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento con massime fino a 29-30 gradi nelle pianure interne e valori superiori alle medie del periodo. Anche sul territorio provinciale sereno poco nuvoloso con locali velature, a Lucche sulla Piana temperatura minima 13, massima 29 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 11, massima 28, a Via Regge sul litorale minima 15, massima 24 gradi, giovedì situazione stazionaria e temperature in ulteriore aumento.